Nel deserto non ha diritti, si affermano i diritti quando si vuole contestare un sistema istituzionale, quando lì si vuole i diritti incorporare in istituzioni nuove. E non risolvono tutta la politica. Faccio ancora un esempio estremamente semplice. Noi abbiamo visto che alcune vicende recenti hanno generato nella società italiana delle reazioni furiose di contestazione che evidentemente non aspettavano che un'occasione, non dico un pretesto, che è un'occasione per manifestarsi come cumulo di frustrazioni pregresse, diciamo così. Una di queste frustrazioni, forse la principale, è la non occupazione. Non si dice disoccupazione perché disoccupazione è un concetto tecnico. La non occupazione. In Italia c'è il 10% di non occupati in generale, fra i giovani e le donne siamo sul 30%. Risolvetela un po' con i diritti questa storia, se ci riuscite. Quando il diritto al lavoro, articolo 4 della Costituzione, non è giustiziabile, ovviamente. Risolvetela con i diritti. No. La si risolve con decisioni politiche verso paradigmi economici di un tipo o verso paradigmi economici di un altro tipo. I diritti non risolvono tutto. Certo che è molto bene che vengano affermati e che vengano rispettati, ma vi è una sostanza socio-economica nella nostra vita collettiva che non passa attraverso i diritti. Passa attraverso gli interessi che confliggono. Non c'è bisogno di pensare a una guerra civile. È sufficiente pensare a quello che molti di noi hanno vissuto decenni fa, quando esisteva il conflitto sociale. Andiamo a capire perché non c'è più conflitto sociale, quali sono le grandi scelte che hanno disintegrato i corpi collettivi, tra cui i sindacati, che hanno spezzato il lavoro in infinite sottospecie, in infinite fattispecie e gli impediscono... Capite? I diritti forse non spiegano le cose più importanti. I diritti servono quando c'è un soggetto collettivo che vuole fare qualcosa di molto aggressivo verso un potere che non gli va più bene. Allora dice diritti. Per carità, è un passo avanti, però il resto del lavoro lo si fa non con i diritti, ma lo si fa con la politica. E chiudo, quando si sono inventati i diritti, quando si è scritta la Costituzione, non si faceva giurisprudenza, si faceva fior di politica e si credeva ragionevolmente che la politica avesse il potere, potere, la parola chiara, potere, di cambiare le cose del mondo. Avesse il potere di cambiare le cose del mondo. Oggi io voglio vedere chi è colui che crede che la politica possa cambiare le cose del mondo. Se non c'è il potere nel Parlamento che rappresenta la sovranità del popolo italiano, è un po' un problema. Non c'è. Vi svelo questo. Allora, l'idea che lì non c'è il potere, che lì non c'è il potere, vuol dire che noi possiamo scrivere tutte le Costituzioni che vogliamo, ma che le cose del mondo vanno avanti non grazie alla Costituzione, non grazie ai diritti, non grazie alla politica, ma grazie agli enormi interessi economici che si muovono e fanno quello che vogliono finché qualcuno, un potere, non gli dice fermati, devia, cioè qualcuno lì governa, qualcuno che abbia un potere uguale a loro, che è quello che oggi non c'è. Per quello che i diritti non servono a fare tutto, servono a fare certe cose, il grosso gli sfugge, perché non c'è il potere politico, non c'è nemmeno il potere politico davanti al quale andare a protestare, a dirgli tutti gli insulti che gli vogliamo dire, perché è veramente sparare sulla Croce Rossa. Dov'è questo soggetto che deve fare questi grandi progetti? D'accordissimo sulla pianificazione, altri forse un po' meno, io lo sono, moderata, intelligente, come la Malfa, non come Stalin. Ecco, dov'è il soggetto? Questo è il problema, non che non abbiamo diritti, che non abbiamo...